Che risponde a qualche presidio del consiglio di Pettino? Allora, mi ha sentito quelle tendenze riguaglie, per vista la condanna delle spese, sono periodi di caso di quale siamo rimasti sopporti in materia di qualche intervento urbanistico con la condanna delle spese. Non c'è nessun riconoscimento per modificarci le spese per commissare l'alta. Non c'è nessuna spese per commissare l'alta. No, 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 sono... Mi radisce l'area libera, c'è qui. Ah, sì, allora, sì, arrivo a questo, ci arrivo. Sì, sì, ci arrivo, ci arrivo. Sì, d'altro, i problemi debiti di tutti quanti, debiti di tutti, non c'è nessun problemi o esecutivo non ha guardato i problemi. Sono tutte tendenze nuove appellate. Denti, quei bilancio, sostanzialmente, fisiologici, sono inevitabili, come è più bilancio. Non è possibile dire da quest'anno poi non ci saranno questo tipo di debiti di poli bilancio. C'è sì un affrontamento particolare in questo periodo per prima, ma è di tutto una cosa possibile sostanzialmente. Perché per anni... anno per anno maggiorate, costant'altro, a singole virali proverimenti, l'amministrazione del gioco binario, 5, 3, 4, 4. Quindi, le tendenze, tra i quali che ci sono i cittadini in questi mesi, si stanno presciando anche a 2,5. Quindi sono le tendenze dei singoli anni. Calcolate in media, 200 giustizia all'anno, in media, tra giudici di pace, tribunali, giustizia amministrativi, duecento, di questi duecento, 60, 70 anni avanti sono negativi, perché appunti è un'altra di non solo le tendenze per quanto bisogna la gara, e non ha anche piantamento di perdere, quasi con un nè. 200 giustizia e sostegno di pagare nulla. 60, 60 tendenze avanti, e per 7, 8 anni, ecco che si sono affumorati. Siamo vicini, in questione della sua strumento ormai, in comitante, con solidarie anche più precedente, e dell'indirizzo dell'amministrazione che vi date in una maniera più assoluta della morte dei commissari ad alta, perché poi se con quelli i casi guarda la morte dei conti vanno ad appuntarsi, veramente, con la riforma del giro 51 del regolamento di contattività, atti indescriviti, il diario generato, il diario generato, il diario interno, l'amministrazione, l'ulta, dovete evitare, in una maniera più assoluta, di pervenire la morte dei commissari ad alta, quanto ci arriva la gestita, cioè il cittadino, tra l'altro e il sottocanto, che ripesta la volontà di agire davanti al giudice all'iniziativo per la morte dei commissari ad alta, dobbiamo evitare questo in una maniera più assoluta, perché è proprio dove la morte dei commissari ad alta. E' inutile dire che si è smasta la voce e sono arrivati molte e molte città le difficili. Li permetto di dire che con i personali, diciamo, che attualmente, a detto prima, non riusciamo a fronteggiare l'ulta, anche con il verismo e il servizio personale, perché abbiamo creduto con questa data, cerchiamo veramente a meno di fronteggiare l'ulta. e non riusciamo a fronteggiare l'ulta. Tutti, diremmeno che con il bilancio, le quali si discute per legge, vengono in carica la vostra ego. Tutti. E non è risultato da che sto, come, come, come mai, come avuto da venire qualcosa e che questo tipo di sentenza soltanto gli è venuta quando si è trovato in rosa, allora non è un'esempio di serra, hanno diversi casi e interventi. Quale è la domanda scena? Le schede. Allora, agli altri ci sono tutti i provvedimenti, un po' che è integrato. Se c'è stato qualche rispito di trasmissione, se c'è il rispetto, non lo so, però agli altri, c'è stato tutto, c'è il ricorrente, ma che è che questo? Se i conti, ogni sentenza è corretato dalla scheda che è assunta, diciamo, del debito, delle ragioni, e qua, l'imprevedibilità. C'è qualcuno che può prevedere l'anno prossimo in quale caso vincerà, quando prenderà e per quali poveri. Mi dà se voi piacere, i quali studiati sono imprevedibili in maniera psicologica, diciamo, sono naturalmente imprevedibili, quindi non c'è altra possibilità. Anche per questo, diciamo, noi non sono potuti risponderti gli altri cittadini, proprio perché sono imprevedibili. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.